I trattori all'Aquila non si fermano. Questa mattina a Nuovo si tiene in una nuova location, palazzo dell'emiciclo. È stato il Cospa a promuovere questo nuovo appuntamento per condividere con la città tutte le ragioni di una protesta che non vuole fermarsi. Gli allevatori agricoltori aquilani già hanno dato vita a diverse proteste pacifiche per non creare disagio alla popolazione e hanno avuto anche modo di confrontarsi con il ministro Salvini durante una sua visita all'Aquila. Accise costi di produzione troppo alti a fronte di prezzi di vendita bassi, chiedono pure di abbassare il costo del gasolio agricolo, passando per la richiesta di una tutela della coltivazione made in Italy per impedire che carne sintetica e farina di insetti arrivino sulle tavole degli italiani, sotto accusa in primis cioè l'Europa con le sue politiche. L'apertura l'abbiamo avuta quando siamo stati a Roma qualche giorno fa, abbiamo parlato con il sottosegretario Lapietro che dice che praticamente vuole portare avanti i nostri punti, che ne sono tanti, però quello che chiediamo sinceramente a gran voce è l'unità di crisi perché l'agricoltura è in profonda crisi. Tra l'altro Liberi Agricoltori già l'ha chiesta l'unità di crisi, spero che anche le altre associazioni di categoria facciano la stessa cosa perché diciamo che queste cosine diciamo come l'IRPEF, tutte queste cosette che praticamente è un danno all'agricoltura ma è come la pillola per il mal di testa, ma con l'unità di crisi ci possiamo sedere a tavolino che poi dobbiamo colloquiare con tutti i ministeri della salute, dell'ambiente, dell'agricoltura. La battaglia è quella della mafia dei Pascoli che è iniziata da 12 anni, le prime denunce sono state fatte da me e sinceramente sono rimasto un po' meravigliato perché il sottosegretario Lapietro ha detto che praticamente in Ageno esiste un registro delle imprese, cioè delle imprese che hanno avuto i soldi e sta cosa mi ha testato ancora più sospetti.